Il Premier italiano Gentiloni si è incontrato con il suo omologo libico Serrai a Roma e hanno firmato un'intesa sul contrasto all'immigrazione clandestina e al traffico degli esseri umani. Deve essere chiaro, ha detto Gentiloni, che abbiamo firmato questo in importante impegno per rafforzare le istituzioni libiche nel contrasto all'immigrazione clandestina. Il Premier Serrai ha detto che non è vero che consentiremo l'ingresso della missione navale europea nelle nostre acque territoriali. Vogliamo un comando unico congiunto per ammodernare la nostra flotta e perché possa svolgere il suo ruolo nelle acque libiche. Soddisfazione all'accordo è stato espresso anche dall'Unione Europea con la telefonata del Premier più di turno dell'Unione Europea Juncker, del Presidente della Commissione Tusk e del Presidente dell'Europarlamento Tajani. Mercoledì a Malta si terrà un importante vertice europeo. Mimmo Siena, Speciale News.